La luce gioca un ruolo fondamentale nell'arte ed alcuni artisti hanno saputo utilizzarla al meglio, rendendo la caratteristica fondante delle loro opere. Oggi analizzeremo le opere e gli artisti che ci hanno affascinato di più nell'uso di essa. Michelangelo Merisi, noto anche come Caravaggio, è stato uno dei pittori più controversi della storia dell'arte, ma anche uno dei più influenti. La luce è parte caratterizzante e fondante della sua pittura. Lo vediamo, ad esempio, nella vocazione di San Matteo. Caravaggio ambienta la scena in un'osteria. Possiamo vedere cinque persone sedute attorno a un tavolo che vengono sorprese da Gesù, accompagnato dall'Apostolo Pietro, che chiama a sé Matteo, indicandolo. Notiamo subito che la scena è divisa in due parti. La parte superiore, che è praticamente vuota, il cui unici due elementi sono la finestra e il cono di luce che illumina la scena, e la parte inferiore, dove avviene di fatto la vocazione. La scena è molto teatrale e tutta è centrata sulla vocazione di San Matteo. Infatti, la luce che proviene dalle spalle di Cristo ed illumina la scena è una luce salvifica e misericordiosa, che infatti perdona Matteo per la sua professione di usuraio e di esattore dalle tasse e gli dà la possibilità di essere chiamato. Proviene direttamente da Dio e Cristo ne è solo il tramite. La grande teatralità è fornita anche dal fatto che i corpi emergono direttamente dall'oscurità, illuminati da un unico cono di luce. Questo perché Caravaggio fa ampio uso nelle sue opere del chiaro oscuro per fornire ancora più teatralità ad esse. Infatti vediamo i volti che emergono e le espressioni che risaltano in primo piano di coloro che vengono chiamati, che sono seduti al tavolo con San Matteo. Caravaggio non indica chiaramente chi sia San Matteo tra i presenti. Infatti, la luce salvifica illumina tutti quanti presenti e il Cristo non indica chiaramente chi viene chiamato. Questo ci porta a un altro tema, l'attualizzazione dell'opera e della chiamata rappresentata. Infatti, tutti i presenti indossano abiti contemporanei di Caravaggio e attraverso la finestra e il tavolo capiamo che ci troviamo in un'osteria appunto dell'epoca di Caravaggio, luogo spesso frequentato dallo stesso artista. Questo sta a simboleggiare l'attualità della chiamata che viene fatta e che la vocazione che è stata fatta a San Matteo per Caravaggio viva ancora nei giorni nostri. Rembrandt nasce il 15 luglio del 1606 a Leida, in una famiglia numerosa e agiata. È tuttora ritenuto uno dei più grandi maestri barocchi della pittura e dell'incisione ed è senza dubbio l'artista più importante alla storia dell'Olanda e il suo contributo alla pittura coincide con quello che gli storici hanno chiamato l'età dell'oro olandese. La permanenza di Rembrandt all'Università di Leida è di pochi mesi. Il giovane mostra ben presto la sua passione per l'arte ed inizia a frequentare lo studio del poco conosciuto pittore Jacob van Zwanenburg con il quale lavora per tre anni. Durante questi anni di formazione artistica, Rembrandt conosce l'arte italiana e i suoi capolavori. Gasto il suo stile particolarmente espressivo divenne ben presto il pittore più in vista del suo tempo tramutando agli aggressivi teatrali effetti di luce e di influenza caravaggesca in uno stile molto singolare in cui l'emotività dei personaggi è posta in primo piano grazie all'avvolgente e misteriosamente evocativo che era oscuro in cui le forme prendono luce e corpo apparendo pian piano da suggestive ombre. La luce infatti, protagonista dei suoi dipinti, penetra in essi rivelando l'interiorità ed enfatizzando i visi e le mani dei personaggi rappresentati. La lezione di anatomia del dottor Talp è stata realizzata nel 1632 sotto commissione della Corporazione dei Chirurghi di Amsterdam. Il professor Nicholas Talp è rappresentato nell'atto di sezionare il braccio sinistro di un cadavere umano. Dai documenti si conosce l'identità dell'uomo infatti si tratta di Adrian Adrian Hazon un detenuto impiccato nel gennaio del 1632 ad Amsterdam. Il corpo è posto quasi parallelo al piano pittorico coperto sul bacino da un panno e di sedia sul tavolo di sezionare. Il dottor Talp indossa un abito molto elegante e un ampio cappello che indicano il suo grado di importanza all'interno della corporazione. Gli studenti che lo circondano hanno dato lo spunto a Rembrandt per dipingere fisionomie ed espressioni diverse. Alcuni sono estremamente interessati, altri quasi ipnotizzati. Qualcuno invece sembra disgustato, mentre i più zelanti osservano l'Atlante di autonomia. Dietro il gruppo dei medici, nel buio, si intravede un grande arco oltre il quale si trova la parete di fondo. Sul muro è esposto un grande foglio sul quale come intestazione compare il nome di Rembrandt e la data di realizzazione del dipinto. La luce rende evidenti, dal fondo scuro, i volti e il cadavere di Adrian. Non si tratta di un'illuminazione direzionale, come nel caso dei dipinti di Caravaggio. Il fondo scuro, infatti, in contrasto con il chiaro e con il bianco, non ha un valore drammatico. Piuttosto la luce diffusa, ma riflessa sulle parti chiare, serve a creare un effetto atmosferico e ambientale per dare uniformità alla scena e concentrare l'attenzione sulle parti più importanti. Parlando della luce, non si può non parlare del pittore impressionista Claude Monet, famoso per la sua serie di quadri, ossia decine di dipinti dello stesso soggetto, dove a cambiare sono solo i colori. Uno dei primi esempi sono gli studi dedicati alle scogliere dell'Ethetat, sulla costa nord della Francia. Monet cercava di rappresentare gli effetti della luce sulle cose in diversi momenti del giorno e delle stagioni. Per farlo andava sul posto, con tela, cavalletto, pennelli e colori, e dipingeva velocemente quello che vedeva. Dipingere all'aria aperta, in francese en plein air, era necessario per la riuscita di questa ricerca su luce e colore. Le 30 tele, realizzate, sono le dimostrazioni che i colori delle cose possono cambiare in relazione alla luce che i oggetti ricevono. Noi se viaggi fuori dalla Francia, ripete lo stesso procedimento. Lo fa a Londra, dipingendo i ponti e gli edifici. Predilige sempre luoghi dove c'è l'acqua, che ha la sua capacità di riflettere i colori dell'ambiente, moltiplicando l'effetto della luce sui oggetti. Per trovare un luogo dove l'acqua dialoga strettamente con l'architettura, non poteva che andare a Venezia. E anche là realizza la sua serie, come quella con la chiesa di Santa Mera della Salute, sul Canal Grande.